Bairland, con sede a Vipiteno, Bolzano. Thomas Siller, direttore commerciale. Ci racconti quali sono i prodotti di punta di questa azienda? La nostra azienda, innanzitutto, è sul mercato italiano da oltre 40 anni. Il motivo perché questa azienda ha cercato questo mercato così tanto tempo fa è proprio la vicinanza geografica e la quantità e la qualità del latte bavarese si prestavano molto bene per avvicinare questo mercato italiano dove c'è una richiesta elevata di prodotti lattiero caseari. I prodotti di punta sono ovviamente i formaggi da taglio come Edamer, Guda e innanzitutto M-Metal bavarese, nei vari formati affettato, cubettato e anche il prodotto fresco, formaggio fresco e come ultimo entrato nel nostro assortimento anche una mozzarella di produzione bavarese, con latte bavarese, con tecnologia italiana. Quindi gusto ma anche proprietà nutritive. Quali sono le caratteristiche dei vostri prodotti? I nostri prodotti sono innanzitutto prodotti di solo latte, sale e caglio di conseguenza molto naturale, di una lavorazione teotonica, la chiamerei io quindi riconosciuta come professionalità, garantita, stabile, 12 mesi all'anno, 365 giorni all'anno e di conseguenza questo binomio di qualità di base del latte insieme con una lavorazione professionale ad altissimi livelli tecnologica, il risultato sono i prodotti Bayerland. Prodotti di alta qualità che sono scelti anche dalla ristorazione, come nel caso di tre referenze che sono state testate e certificate dalla Federazione Italiana Cuochi. Assolutamente sì, proprio il canale del food service è il secondo canale molto importante per la nostra azienda dopo ovviamente la distribuzione moderna italiana avendo un assortimento completo di prodotti partendo come detto dai formaggi da taglio ai formaggi freschi, ai mogli, ai duri per arrivare anche prodotti UHT come panna, latte e burro completiamo tutta la gamma da poter offrire al canale food service italiano. Di conseguenza era quasi ovvio questa collaborazione, questa partnership insieme con la Federazione Italiana Cuochi e la Federazione Italiana Cuochi è stata avvicinata dalla nostra azienda proprio per far verificare per far testare i nostri prodotti, per far certificare anche questa qualità che noi riteniamo di avere da tantissimi anni su questo mercato e dopo una selezione molto severa da parte della Commissione della Federazione Italiana Cuochi sono stati scelti tre delle nostre referenze. I primi due sono il nostro Burro Gold Bayerland, il secondo è la panna Montare Bayerland quindi una panna di pura lavorazione direttamente dal latte e dalla panna e il terzo prodotto è il nostro formaggio fresco in una confezione da un chilo e mezzo ideale per la lavorazione in cucina. E tra l'altro il consumatore può anche riconoscere questa certificazione già dalla confezione? Assolutamente sì, prodotti che passano questo severo controllo, queste analisi da parte di una Commissione della Federazione Italiana Cuochi ottengono la possibilità di mettere sul suo incarto proprio questo certificato della Federazione Italiana Cuochi e questo ovviamente abbiamo dopo anche fatto, applicato con grande soddisfazione una volta passato a quell'esame della Federazione Italiana Cuochi.